musica simpatia colore divertimento discoteca samoa capestrano il sabato apertura ore 19 con il lescio per ritrovare il gusto e la gioia di fare quattro salti la domenica dal pomeriggio ore 15 e 30 con le novità discografiche internazionali per ballare e per ascoltare gli ultimi successi oggi c'è un modo simpatico per divertirsi e ritrovarsi discoteca samoa a capestrano non è certo un caso se l'emittente più ascoltato della zona è radio ombra bar ristorante la pecora nera bar ristorante la pecora nera telefono 93 81 81 castel del monte degustate i tipici piatti castellani agnello di casa del monte cotiche fagioli sorce foglie strangola preti sagne lenticchie maccherone alla chitarra fettuccine salsicce affettati casarecci bruschette bar ristorante la pecora nera telefono 93 81 81 castel del monte bar ristorante la pecora nera la tipica cucina castellana si accettano prenotazioni autofficina bascucci renato la tua è un'auto perfetta ma perché duri più a lungo e per i tuoi viaggi in tutta sicurezza affidati all'autofficina pascucci renato clinica dell'auto pascucci renato frontone di ofena comet costruzioni metalliche via paludi 7 catignano infissi alluminio carpenteria in ferro avvolgibili veneziane serrande comet il massimo della tecnologia degli anni 80 al vostro servizio con macchinari modernissimi e personale specializzato come per la sicurezza e l'eleganza della vostra casa come per un lavoro che duri nel tempo infissi alluminio carpenteria in ferro avvolgibili veneziane serrande comet costruzioni metalliche via paludi 7 catignano pescara una ditta nuova un nome nuovo un modo nuovo per risparmiare comet va a visit mobili arredamenti moderni salotti soggiorni cucine componibili di loretto ornesto capestrano camere da letto con materassi permaflex di loretto capestrano elettrodomestici tv bianco e nero tv color di loretto cavestrano agenzia di zona macchine per cucire singer di loretto ornesto via roma cavestrano numero telefonico 95235 di loretto un nome un risparmio eh signor oggi più che mai l'auto è diventata una necessità per questa tua necessità autosalone cavalier radolfo palmieri via teramo 49 pescara l'autosalone dove puoi trovare l'auto su misura per te e per la tua famiglia l'auto salone palmieri a tua compresa disposizione per provi su strada e delucidazioni eh sì è proprio il caso di dirlo palmieri la tua auto occasione non è certo un caso se l'emittente più ascoltato della zona è radio ombra lavorazione marmi fratelli palumbo video per torre dei passeri a due chilometri ingresso autostrada numero telefonico 085 888 253 fornitura e lucidatura pavimenti in marmo travertino a richiesta si eseguono tutti i lavori relativi al marmo per nuove costruzioni e per migliorie ad abitazioni già esistenti lavorazione marmi fratelli palumbo fratelli palumbo fratelli palumbo via per torre dei passeri a due chilometri ingresso autostrada telefono 085 888 253 a capestrano in via toro 97 marini un nome affermatosi per la convenienza e la qualità infissi porte finestre scale ringhiere marini officina specializzata in finestre alluminio nodizzato marini inoltre da oggi ti offre un assortimento completo di vetri su misura per ulteriori spiegazioni telefono al numero 95 3 84 marini infissi e vetri capestrano Siete sintonizzati sui 93.3 100.6 mega s in fm radio ombra capestrano usi ancora strisce adesiva alle finestre ma veramente basta con le correnti d'aria in casa da oggi c'è l'officina incas De Stefanis e Giampaolo viale patini zona crucifisso sul mona infissi in alluminio ringhiere e chioschi officina incas prefabbricati vetrine e bacheche officina incas esposizione per negozi persiane orientabili in alluminio e plastica officina incas carpenteria leggera in ferro officina incas De Stefanis e Giampaolo viale patini zona crucifisso sul mona Dorazio Gabriele autofficina meccanica riparazioni motori a benzina e diesel cambio pneumatici a prezzi veramente ottimi d'orazio Gabriele via ripaldi numero 9 pietranico pescari via regina margherita 145 buss calzature calzature e pelletteria beta piaggio gilera riccardi filomeno rivenditore montesa am ktm omc rizzato officina specializzata con ricambi originali beta piaggio gilera iro minarelli riccardi filomeno via del re cittadino 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 per matrimoni per matrimoni e cresime comunioni ricordini per comunioni album cornici studio fotografico spero e nuttini cineprese proiettori macchine fotografiche per foto istantanee studio fotografico spero e nuttini via progresso bussi sul tirino numero telefonico 98011 prefisso 085 un regalo tante idee una scelta per te un oggetto un ricordo un dono per lei oppure per lui un mondo di articoli silvestri lidi a piazza mercato capestrano casalinghi articoli regalo silvestri capestrano centro pneumatici tecnogom sud via tipurtina valeria chilometro 182 popoli gomme delle migliori marche e gomme ricoperte con garanzia gomme nuove ricostruite per mezzi agricoli assistenza per macchine da cantiere convergenza elettronica equilibratura elettronica centro pneumatici tecnogomma sud in via tipurtina chilometro 182 popoli telefono 98 41 3 con prefisso 085 centro pneumatici tecnogomma sud in via tipurtina al chilometro 182 popoli 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 popoli